Buongiorno, sono Genuario Pellegrino da Torino, past president della FEDELPOL, l'associazione più rappresentativa degli investigatori privati, opero sul territorio torinese e nazionale e volevo veramente congratularmi per questa giornata estremamente interessante messa in campo da Stop Secret toccando gli argomenti più vivi del nostro mondo sia investigativo che recupero crediti e quant'altro. Questo è un momento ulteriormente importante per tutto ciò che ne consegue per la nostra categoria ed è altrettanto per noi un momento di grande riflessione ma anche di azioni, mettere in campo tutte le nostre forze per far sì che certi nostri progetti iniziati da tanti anni possa incominciare ad avere un minimo di riconoscimento istituzionale. La presenza di questi onorevoli, di questi rappresentanti legislativi, piuttosto che nel garante della privacy del ministero degli interni, ha fatto sì che prese di nostre disposizioni possano essere considerate nel momento e nella maniera più giusta. Perciò auguro di continuare su questa strada a Stop Secret perché penso che sia la via maestra. Perciò auguro di continuare su questa strada a Stop Secret